Situazione Covid-19 ad Ispica che preoccupa, i dati in continuo aggiornamento, ordinanza sulla sanificazione degli istituti comprensivi, scuole chiuse da oggi al 13 novembre e la risposta del primo cittadino espicese alla minoranza consigliare che lamenta il non ascolto e il non coinvolgimento in questa fase dove bisogna essere uniti. Ascoltiamo Inocenzo Leontini, intervistato dal nostro Piero Giunta. Sindaco, iniziamo questa nostra consueta chiacchierata radiofonica con l'aggiornamento della situazione Covid-19 ad Ispica. Cosa ci vuol dire? Al momento della nostra conversazione e registrazione, Piero, il numero dei casi di contagio registrati ad Ispica ammonta ad 83. Di questi 83 casi, 4 sono soggetti ricoverati in ospedale, mentre gli altri sono tutti in isolamento. Pertanto, rispetto al dato precedente che ho ufficialmente comunicato, tre si sono negativizzati. Colgo l'ennesima occasione per raccomandare prudenza, saggezza nei comportamenti, rispetto delle prescrizioni dei dpcm e delle ordinanze che si sono sovrapposte a livello nazionale e a livello regionale. L'uso della mascherina sempre e soprattutto il divieto di assembramento nei luoghi pubblici, per le strade. E' un invito che rivolgo soprattutto ai ragazzi che siano giudiziosi e che diano anche loro un contributo determinante a che tutta la città possa affrontare al meglio questo difficile momento. Da oggi ad Ispica scuole chiuse per una settimana, dal 9 al 13 novembre, lei ha firmato l'ordinanza sulla sanificazione degli istituti comprensivi Padre Pio da Pietrelcina e Leonardo da Vinci. E allora, Findaco, spieghiamo da questi microfoni perché si è arrivati a chiudere le scuole. L'amministrazione è stata in contatto e in collaborazione con le scuole, con le dirigenti scolastiche tutti i giorni, nei giorni scorsi. L'assessore Franzò ha svolto un'attività di verifica, di controllo, di raccordo con le dirigenti scolastiche e ha quindi fornito rassicurazioni circa una vigilanza del comune e un intervento conseguente. È stato chiesto da parte dell'amministrazione, da parte dell'assessore Franzò, da parte mia personale, alle dirigenti scolastiche dei due istituti, Padre Pio di Pietrelcina e Leonardo da Vinci, una relazione articolata e completa sulla situazione esistente all'interno dei loro istituti. La dirigente scolastica di Leonardo da Vinci ha riferito che la percentuale di alunni assenti nei plessi, perché venuti a contatto con positivi si caratterizzava in tal modo. Nella scuola dell'infanzia Chiara Lazzaro il 56% erano assenti, nella scuola dell'infanzia Madre Curcio il 20%, nella scuola dell'infanzia Sant'Antonio l'attività addirittura era sospesa, nella scuola primaria San Giuseppe il 7,5%, nella primaria Sant'Antonio l'attività sospesa, nella secondaria Leonardo da Vinci il 17%. La percentuale di assenze del personale per malattia si attestava sul 6%, gli operatori scolastici con contatti stretti di familiari positivi 2%, all'unni positivi 1%, classi venute a contatto con positivi accertati 1%. Mentre nella relazione della dirigente scolastica del padre Pio di Pedelcina è stato indicato il numero dei docenti che sottoposti a tampone sono risultati positivi, cioè 3% è stato indicato il numero degli alunni positivi e è stata fornita comunque una relazione articolata, complessiva sulla situazione esistente nell'istituto. Alla fine, chiaramente raccordandoci, abbiamo ritenuto la garanzia della scuola, della comunità scolastica, delle famiglie, dei bambini, delle insegnanti e di tutta la città di procedere ad una sanificazione completa degli ambienti dei due istituti, sia gli ambienti destinati alle attività didattiche e sia quelli destinati alle attività amministrative, proprio per fornire una rassicurazione e mettere gli istituti nella condizione di riprendere le attività didattiche senza alcun rischio e alcun timore. Il raccordo quindi c'è stato, è stato quotidiano e se è vero che qualche iniziativa di sanificazione era iniziata negli istituti scolastici è chiaro che la decisione dell'amministrazione è intervenuta successivamente interrompendo queste attività e procedendo ad una attività più completa, proprio perché c'era stato un raccordo, proprio perché nel frattempo le dirigenti scolastiche avevano fornito una relazione al comune e quindi poi tenendo conto della relazione l'amministrazione, il sindaco, l'assessore François e collegialmente tutta l'amministrazione abbiamo deciso di procedere in tal modo. Ma mi sembra strano che si dica da qualche parte che non ci sia stato raccordo quando la decisione è il frutto di un evidente raccordo e poi mi sembra strano che a dirlo siano proprio i campioni della mancanza di raccordo. Ricordo a tutti che a febbraio l'episodio di carnevale fece ridere tutto il mondo perché il sindaco e l'assessore del tempo autorizzarono le scuole a portare i bambini in piazza e poi proprio perché non esisteva nessun raccordo, nessuno sapeva niente, non erano stati informati nemmeno i carabinieri, i bambini furono rispediti a scuola nonostante avessero indossato le mascherine, nonostante tutti contenti avessero fatto collaborare i genitori, le famiglie nella preparazione che era durata tutta la settimana, si trovarono ad essere rispediti nelle loro classi e poi a casa senza alcuna possibilità di procedere alla manifestazione proprio per mancanza di raccordo. E mi sembra strano che i propri protagonisti di questa eroica impresa oggi possano eccepire nei confronti dell'amministrazione che invece produce una decisione e un'attività a garanzia di tutta la città raccordandosi con le due dirigenti scolastiche, cioè con la dottoressa Martese e con la dottoressa Faraci. Questo è accaduto, credo che l'operato sia ineccepibile e così si procede. Noi ci siamo raccordati con le scuole e stiamo facendo quello che serve alle scuole, ai bambini, alle famiglie, alle insegnanti, alla città. Credo che questo sia sotto gli occhi di tutti. Polemizzare con l'amministrazione perché non si è raccordata, questo può accadere quando i dati possono essere incerti, quando manca un'attività di raccordo con le istituzioni scolastiche. Ma quando l'attività di raccordo esiste e c'è da prendere decisioni, questa amministrazione, al contrario di altre, le decisioni le prende e quindi le prende in modo determinato e inequivocabile per produrre un risultato. E quindi non credo che esista un problema. Poi io le polemiche intendo respingerle e le respingo. Se vogliono fare polemiche strumentalmente la facciano pure. Ma in questo caso io credo che prevalga l'interesse della città sulle polemiche. Perché ho sempre detto sin dall'inizio che il nemico è il virus e non l'avversario politico. Se i miei avversari politici intendono invece capovolgere questa agenda, facciano pure. Rientra nei loro diritti, ma rientra nel diritto dell'amministrazione quello di prendere decisioni a vantaggio della città. Ringrazio Inocenzo Leontini, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.